Salve a tutti e benvenuti alla rubrica Scuola con Google, sono Gianfranco Marini e in questo video vorrei parlarvi di come sia possibile l'editing delle immagini, quindi modificare e personalizzare le immagini con Google Documenti e soprattutto con Google Presentazioni. Si tratta di operazioni abbastanza semplici e probabilmente conosciute dai più, ma ci sono alcune funzionalità piuttosto interessanti e che non sono immediatamente evidenti, parleremo quindi di cose abbastanza banali come ridimensionare un'immagine o riposizionarla in modo esatto nella porzione di pagina che ci interessa, come tagliare un'immagine, come tagliarlo tenendo determinati effetti, aggiungere un bordo, ricolorare e regolare le immagini, cioè luminosità, contrasto e trasparenza. Alcune funzionalità sono presenti a entrambe le applicazioni, Google Documenti e Google Presentazioni, altre invece si trovano soltanto in Google Presentazioni e sappiamo quanto è importante regolare, mettere a punto, insomma, modificare l'immagine nel modo voluto per ottenere un certo effetto sul piano comunicativo. Quindi apriamo una presentazione, sappiamo tutti che possiamo inserire un'immagine o dal nostro computer, o la possiamo cercare sul web, oppure da Drive o da Google Photo, oppure tramite URL o fotocamera in questo caso tramite webcam. Possiamo anche trascinarla direttamente, per esempio qui ho due immagini, clicco, trascino e come vedete posso ottenere l'inserimento automatico dell'immagine. Posso fare la stessa cosa non da una mia cartella ma da una pagina web, quindi per esempio ho trovato queste immagini, mi interessa, la trascino sul documento e verrà automaticamente inserita. Eccola qui. Allora, come ridimensionare è molto semplice ovviamente, ecco, la ridimensiono in questo modo, naturalmente badando di prendere l'immagine da quest'angolo, altrimenti ottengo un effetto di schiacciamento che non è desiderabile. Bene, posso posizionare l'immagine a occhio, oppure aiutandomi con queste linee rosse, adesso è centrata verticalmente, la centriamo anche orizzontalmente, ecco qui, in modo che sia al centro esatto della slide. Posso però anche avere l'esigenza di posizionarla in modo esatto sulla pagina al millimetro, perché mi interessa che stia in una certa relazione spaziale con altri elementi della pagina. In questo caso vado su opzioni formate, vedete, dimensione e posizione. Queste sono le dimensioni, posso bloccare le proporzioni, vedete, e lavorando con i centimetri, ingrandire o diminuire larghezza e altezza, oppure basandomi sulla percentuale. Posso anche fissare sull'asse delle X e delle Y, quindi X e Y, la posizione esatta, al centimetro anche qui, o al millimetro se voglio, 66, 67 e così via. Posso anche ruotare secondo un'angolazione esatta che mi interessa, per esempio 32 gradi, e ho ruotato esattamente, senza usare quindi questo strumento che è più approssimativo, ma usando uno strumento esatto. Bene, queste sono funzioni molto utili, che non ci sono in Google Documenti, però non c'è questo menu. Sappiamo anche che è possibile tagliare, quindi seleziono l'immagine, vado sullo strumento Ritaglia, clicco e compariranno queste barre nere, questi angoli neri, che posso trascinare per mantenere solo la porzione di immagine che mi interessa. Per esempio questa, una volta ottenuto il risultato desiderato, invio e abbiamo la nostra immagine. Naturalmente possiamo anche ripristinarla, vedete l'immagine è rimasta, anche se visualizzato solo il ritaglio che ho operato. Esiste un altro modo di ritagliare, adesso annulliamo questa, ripristiniamo l'immagine. Molto interessante se si vogliono ottenere certi effetti, con delle forme. Io infatti posso cliccare su questo triangolo, si apre un menu, e qui abbiamo forme, frecce, collaut, eccetera. Per esempio, possiamo ritagliare con questo effetto, con quest'altro effetto. Proviamo, e vedete che ho ottenuto questo ritaglio. Posso naturalmente con un doppio clic accedere nuovamente, modificare il ritaglio, ingrandire, ecco. Adesso sono soddisfatto. Vedete, ho ottenuto il ritaglio, naturalmente qui ci sono porzioni bianche, perché l'immagine non si adatta perfettamente. Ma avete visto che otteniamo un effetto del genere, che può essere interessante se vogliamo magari mettere in evidenza una porzione d'immagine, o usarla come titolo, eccetera. Naturalmente posso usare qualsiasi altra forma, che so, questa. Vedete, otterrò questo effetto. Posso anche ovviamente modificare, ruotare, ridimensionare, e così via. È possibile anche inserire un bordo nell'immagine. Vediamo per esempio con l'immagine di questa biblioteca. Basta che io selezioni prima il colore, adesso lo metto rosso, così si nota, e poi devo indicare lo spessore del bordo. Poniamo 3 pixel, giusto per farlo vedere. E così ho ottenuto un bordo, come si vede, molto semplice. Questa funzione esiste anche in Google Documenti, mentre non abbiamo questa possibilità in Google Documenti. Perlomeno non possiamo ottenerla in questo modo. Bene, vediamo adesso la ricolorazione dell'immagine. Non possiamo agire direttamente sulla saturazione, la tonalità e altri colori, però possiamo, cioè, ci propone Google Slide automaticamente, ma questa funzione, dicevo, è presente anche in Google Documenti, ci propone, cerchiamo una foto adesso, alcune possibili ricolorazioni di un'immagine. Adesso prendo un'immagine a caso. Questa è Luca. Seleziono, inserisco. E vado su Opzioni Formato, come prima, però non seleziono più Dimensioni e Posizione, ma Ricolorazione, e vediamo che ho alcune possibilità. Chiaro, più scuro, sull'arancio, e via dicendo. Naturalmente, se non sono soddisfatto, posso sempre usare le regolazioni. Quindi posso, per esempio, aumentare o diminuire il contrasto finché non ottengo l'effetto desiderato. Posso anche ottenere un altro effetto. Chiudiamo regolazioni, andiamo su Ombra, clicco, viene aggiunta un'ombra, si vede appena adesso, posso anche qui regolare, modificando il colore, adesso io lascio il nero, e modificando la distanza dell'ombra dal bordo dell'immagine, adesso aumentiamola un po', più o meno sfocato, vedete, così è molto più sfocato, così è netta. Aumentiamo ancora, così si vede meglio. E anche modificare l'angolo. In questo caso, l'ombra viene proiettata nella parte inferiore, modificando l'angolo, posso, vedete, far proiettare l'ombra, in questo caso, a sinistra. E questo è l'effetto che ottengo, una sorta di effetto 3D. Posso applicare questo effetto ombra anche ai testi. Vediamo un'ultima cosa che possiamo fare. Magari queste immagini ci piacciono, adesso io tolgo il bordo, basta andare sul colore del bordo e mettere trasparente, e voglio magari usarla come sfondo di una mia diapositiva. Adesso questa non è proprio l'ideale, perché vedete, non posso sovrapporla esattamente alle dimensioni della slide, comunque adesso la allungo con questo brutto effetto di allungamento. Cosa posso fare? posso, per esempio, ricorrendo alle regolazioni, renderla trasparente. Quindi si vedrà, ma in trasparenza, perché voglio che venga messo in evidenza il testo. E quindi a questo punto inserirò un testo, chiamiamo biblioteca, l'ho formato secondo i miei desideri, se lo mettiamo in elvetica, aumentiamo a dismisura anche di più, e centriamo l'orizzontale in verticale, ecco, vedete, non è ancora molto chiaro il titolo, ma posso a questo punto ricorrere o alla colorazione del riquadro del testo, che adesso riempicciulisco un po', perché altrimenti è troppo grande, ecco, facciamo così, e in questo modo, per esempio, lo posso riempire bianco, il bianco, posso anche personalizzare, renderlo un po' più trasparente, in modo da fare intravedere dietro la biblioteca, oppure posso usare un altro effetto, quindi annulliamo, e selezioniamo biblioteca, e andiamo sull'evidenziatore, qui posso usare, poniamo il bianco di nuovo, e vediamo che otteniamo questo effetto qui, per cui il titolo, vedete, si stacca dallo sfondo, però si vede sempre la biblioteca, anche se sfumata. Bene, grazie a queste funzionalità, a questi strumenti, possiamo, come dire, configurare l'immagine, secondo quelli, che sono gli effetti, che vogliamo dare, su Google Documenti, abbiamo la possibilità, di inserire, di inserire un bordo, abbiamo anche qui, opzioni immagine, ma vedete, abbiamo solo la ricolorazione, e la regolazione, diciamo, per il posizionamento, il ribaltamento, eccetera, dobbiamo usare altri, altri strumenti. spero che questo video, vi possa essere stato utile, che abbiate scoperto, come è capitato a me, pochi giorni fa, alcune funzioni, che non conoscevo, e quindi metto a disposizione, di tutti, queste scoperte, tra virgolette, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, arrivederci.